Ciao Ehi tu, ciao vicini di casa E che fai? Che fai? Questo non lo sai cos'è Certo, come fai a sapere? E' una medicina, un medicinale Medicinale? Si Ma perchè sei malato? Ehm, purtroppo, è una condanna La devo prendere 3-4 volte al giorno, guarda me la galla Porca mia, ma che malattiai? Ehm, ho la, 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 il diabete Porca mia Non me l'ha nessuno giù Eh, lo so Lo so, è tremendo, è tremendo Scusa, ma io la devo prendere a orari precisissimi Qua è a scarrare Fai, fai Oh, ci, ci, come va? Ah, meglio, mi sento provato Lo sai, non avevo mai visto una medicina che si pigliava col naso io? E' moderna, viene dall'estero Oh, grazie a tutti Oh, è due